Pandolfo, ti devo fare un invito. No, per favore, hai che fare, però che c'è? Come no? C'è un invito, non è che mi do un'omage buona. Di che si tratta? Uno spettacolo teatrale all'Agricantus. No, non ci voglio venire, ma annoio, al teatro mi annoio. Ma semo io e tu, rincoglionito. Ah, lo dobbiamo fare io e tu? Ma quando è, scusa? Il 30 giugno, 1, 2, 3 luglio. No, c'ho l'estetista, non posso venire. L'estetista che ti hai fatto? Mi depila. Oddio mio, quindi tu ci avresti il codino. Lascia per, non te lo posso dire. Ci viene all'Agricantus. Vabbè, vengo peloso. Ammoni, 30 giugno, 1, 2, 3 luglio, all'Agricantus, Isola Pedanale.